Io non saprei se insultarla, perché intanto io mi sono avvicinato a questa storia Cosa sapete di questa persona qua? Perché quello che so io, mi sono avvicinato a questa storia Leggendo su internet e ho letto che... Mettiamola un attimo nello schermo Mi dite nome e cognome di nuovo? Carlotta... Minchia, già esce, Rossignoli, ok Studentessa dei record, ecco, perché il San Raffaele ora scarica Carlotta Rossignoli Ok, questo è quello che è successo Da link di Facebook ho scoperto che c'è stata questa ragazza Esatto, che si è abbonata Grazie per l'abbonamento Che si è laureata in 5 anni invece che 6 Minchia E ha messo un messaggio spiegando un po' il come mai è riuscita in meno tempo a laurearsi In medicina, sì E quello che ha dato come spiegazione è che ha studiato tantissimo Si è veramente rotto il culo e che ha dormito poco La gente l'ha presa ultra male Ultra male La gente diceva che intanto l'hanno odiata tutti quanti Nel senso, io non so se avete notato Io ora entro su Facebook un po' perché sto gestendo la pagina E per vedere un po' le notizie di politica Più che altro perché è diventato il telegiornale della politica Tutti la odiavano Tutti quanti la volevano veramente morta dicendo che vive il cazzo che si è laureata in meno anni Perché ha una famiglia ricca Quindi ipoteticamente La famiglia ha comprato La laurea In medicina non servono 10 anni Io ne ho parlato con Martina Che ha i genitori entrambi medici E so che dipende dal corso Dipende da tante cose Non saprei Perché su questa cosa non so Quello che so, quello che ho visto È che con la specializzazione sono 10 Quello che ho visto è che questa persona questa è inondata di merda Ma tantissimo Io da buon alternativo quale sono Me la sono subito presa con tutti quelli che la andavano contro Perché viva i deboli, no? No, più che altro perché quello che scriveva la gente su Facebook Era che era ricca Spesso, volentieri, quando qualcuno riesce a qualcosa Impossibile essere contenti Bisogna trovare delle giustificazioni La giustificazione che trova la gente Era che fosse ricca E che dovrebbe imparare a zappare la terra Dovrebbe studiare veramente Non ha idea del vero lavoro Quello che è successo È questo Vediamo se riesco a trovare un articolo interessante Leggiamo un po' Ah, e quello anche per cui veniva odiata Era che faceva anche l'influencer e viaggiava molto nel mondo Come se fosse un detramento Detramento da quello che è lo studio Non saprei Io ho visto molto rosicamento ragazzi Ho visto neanche la gente patetia che parlava di questa ragazza qua Non ho idea se lei abbia comprato qualcosa o no Ma non penso ce l'abbia neanche tutta la gente che l'ha insultata Sta di fatto che l'hanno fatto E quello che è successo è che questa povera disgraziata del cazzo Si è tolta Instagram Perché da quando è uscita questa notizia qua L'hanno bombardata di messaggi del cazzo Come al solito internet si riconferma La merda che è diventata da un po' di tempo questa parte Ovvero difendiamo Tantissimo con le armi Chi perde E distruggiamo con tutte le stesse armi Delle difese Chi vince Indipendentemente dalla vittoria O dalla sconfitta Vorrei leggere un po' questo qua con voi Lo ritenevo un po' interessante Volevo parlarne un po' È proprio ricca Questo è un vestito da ricchi Ragazzi Questo è un vestito da ricchi eh Questo è un vestito da ricchi Questo fa di lei una puttana Se sei ricca sei puttana se non sbaglio È così che funziona nel mondo Ricca vuole puttana Disgraziati Tutti comprati Dalla ricchezza queste persone qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone comprate Qua vedo anche una 9 9 persone comprate Quanto costano 9 persone? E questa è lei Qua in un deserto Non si può stare in un deserto Se stai studiando Questo fa di lei un'imbrogliona di merda Veramente imbrogliona Qui è lei che si gode una partita Di uno sport Che cosa è? Basket? Imbrogliona Non si può stare sopra i dromedari Se stai studiando Questa è una cosa che ho scoperto Però se non lo sai effettivamente Non so quanto sia saggio difenderla Ah ma io non lo sto difendendo da quello Che lei praticamente ha fatto La sto difendendo dagli insulti idioti Ciao Marco Secondo me la gente l'ha insultata solamente perché è bella Secondo gli standard di bellezza Di quando ci spegniamo E riscopriamo che comunque Magri vuole bello Non si può stare vicino all'estato Col cazzo di fuori Se studi Questo lo so E anche perché Faceva un po' la telecronista Non lo so ragazzi Molta gente Di quella che conosco Che studia Che comunque fa un po' questa vita qua Non riesce a studiare mai Ma non perché E sia difficile Ma perché è molto più bello Andare fuori E obbligarsi con gli amici Farsi una serata Andare al cinema E molta gente Perde molto tempo Io Tutti i miei amici non sono influencer Ho sempre cercato di stare lontano Da Gli amici influencer Perché boh Non cosa possono dirmi Più di quello che so della vita Perciò ho sempre frequentato gente Non influencer Quindi che studia Universitari E Hanno tantissimi Grandi difficoltà A conciliare Vita e lavoro Non Non attaccherei Qualcuno Che semplicemente Dice che c'è riuscito Quindi Boh Su internet mi diranno Che difendo gli indifendibili Ma su internet Mi succhiano Un bellugazzo Leggiamo La 23enne Veronesa Modella influencer Era finita nell'occhio del ciclone Dopo la laurea In tempi record In medicina Con il massimo dei voti All'università Vita salute Ressa Raffaele di Milano Una cosa che vorrei dire Che lei ha anche La gente Se l'era molto presa Del fatto che lei Avesse detto Ho dormito poco Ho dormito pochissimo Per Mandare avanti I miei studi E non Capisco cosa ci vedo di male Anche il mio Algoritmo vitale Quando monto Qualsiasi video Se ne va Letteralmente Affanculo Ma penso che sia un po' Quel sacrificio là In più Dormire Poco Quando hai una vita Di studio Ovviamente Proconciliata Tante cose che faceva E viaggiava Cosa bellissima Comunque Viaggiare Non c'è niente Di più Emozionante Lei ne parlava Anche a livello Culturale Viaggio per Arricchirmi Ed è vero Non ho nessun motivo Per non crederle Semplicemente Lei ce l'ha fatta Secondo me Questa cosa qua L'università Lo dico la mia Guarda Blocco un attimo Sto messaggio Enrico Marro Che altrimenti Non finisco più Di leggere Finisco di leggere E poi leggo A voi Un risultato raggiunto In anticipo Rispetto ai suoi colleghi Di corso Ah Questa cosa qua Era pure uscita Questa specie di fake news Che dicevano che poi I colleghi Si sono ipoteticamente Ribellati Con l'università Dicendo Questa stronza Qua ha cittato Ma lei ha detto Che non è vero Perché sono tutti I loro amici E in caso L'hanno fatto Di spalle Che grandi Cazzo Ciao Domenico Grazie per l'abbonamento Come lei aveva spiegato In alcune interviste Unicamente dal frutto Di duro lavoro Carattere E Organizzazione Cose che invidio Onestamente Perché da parte mia È difficile Subito però Erano arrivate le critiche E i dubbi Da parte di alcuni studenti Della facoltà di medicina Che avevano parlato Di esami a porte chiuse Svolti dalla 23enne Di favoritismi E dall'impossibilità Di finire esami Ehm Su questa cosa qua Che cosa ho da dire Ho da dire che Anch'io leccavo il culo A tutti i professori Anch'io ho avuto Dei professori Che conoscevano I miei genitori E che chiudevano Veramente un occhio Quando non facevo un cazzo E qualcosa mi dice Che tutte le persone Quando gli capita questo L'alternativa È andare dal professore E dirgli Non farci caso Che sei amico Con mia madre O mio padre Se hai scopato Mio padre Se hai fatto la scuola Con mio padre Non farci caso Trattami Cioè L'alternativa Mi sembra un po' strana Se fosse questo il caso Corsi e fare I tirocini Obbligatori Con quelle tempistiche O comunque In poche parole Chi ha l'opportunità Ne approfitta Immagino Da qui È poi montato Il caso mediatico Che ha portato Carlotta A chiudere il suo profilo social Questo è internet Che succhia il cazzo Come sempre Probabilmente Per la tempesta Di odio E gli insulti Che l'hanno travolta Nell'ultima settimana Che cazzo c'è da dire Ragazzi Nella ricerca La ricerca della verità Agire con aggressività Sicuramente ti chiude le porte Per quella che è La Quest'ipotica Ricerca della verità Stai decidendo Che lei Ha imbrogliato Senza Veramente saperlo Può suonare strano E immagino Che se sei Uno schifoso Stronzo ciccione Che non sa finire gli studi Vedi qualcuno Di bellissimo Ed ipoteticamente Ricco Che li finisci prima di te Ti incazzi Però Boh Exedes sonno Grazie per l'abbonamento A difendere Carlotta Era stato anche Il virologo Roberto Burioni Che è l'insegnante In quell'università Carlotta non ha avuto Nessuno sconto Nessuna facilitazione Aveva spiegato Non si capisce Il clamore suscitato Visto che io stesso Ho impiegato I regolari Cinque anni Per fare il classico Mi sono laureato All'università Cattolica Nell'ontano 87 A 24 anni Forse la mia fortuna È stata che allora Non c'erano i social Secondo me Questa boomerata Dell'amico Roberto Burioni Potrebbe in realtà Spiegare molto La situazione Perché da quello Che ho visto io È sempre nella modalità Che si capisce Cosa veramente La gente vuole cercare Alla gente Non fotte un cazzo Se ipoteticamente La scuola Abbia favorito O no Alla gente Fotte che qualcuno Che è felice Per ipoteticamente Fortuna O in questo caso Ancora peggio Essessi comprato La felicità Non lo sia più Non deve più Essere felice Soprattutto se Esteticamente Da un po' Quella narrativa Di una persona Che fin dalla nascita È felice Cosa che Comunque lei ha poi Smentito Dice Dice che vive In una famiglia Umile C'è suo padre Che fa Che cazzo Ne so Il contadino E sua madre La medusa La 23enne Che in passato È stata premiata Dal presidente Della repubblica Sergio Mattarella Come alfiere Del lavoro Per la maturità Classica Conseguita Con cento e lode In quattro anni In un primo momento Aveva incassato Le critiche Con un Non ti curare Di loro Ma guarda E passa Anche perché Torna a fare reaction Su cose Che ti competono Oh guarda qua Bro Non c'è bisogno Di insultare Anche perché Questa notizia È veramente arrivata A tutti quanti Quindi come minimo Ne parlo In più Non credo Che Chi studia Ha la possibilità Di scoprire Più di me Se questa cosa È vera o no Può parlare Solamente di se stesso Tipo i miei studi Durano da più anni Per medicina Ci vogliono Minimo sei anni Sveglia Ho parlato Con qualcuno Che Sono stato In un locale Dove si parlava Di questa cosa qua Anche con Martina Che aveva i Che come ho detto Hai i genitori Medici E mi ha detto Che dipende Dal corso Però veramente Non saprei Questa cosa qua Non ho Non saprei Ma ho detto Solamente Che è così Che è possibile La 23enne Che è passata In strada Di prima Ok Poi negli ultimi giorni Aveva continuato A postare Sui social Come se nulla fosse Ma i commenti Di odio Si sono moltiplicati La 23enne Dottoressa In medicina Ha quindi deciso Almeno per il momento Di dire Addio È una giusta Risposta Secondo voi Se È una giusta Risposta Secondo voi Quindi sì È successo Un po' questo Ci vuole filosofia Marco Ognuno si gioca Le proprie carte In una vita Dove ne ha solo Una chance Per diventare qualcuno Io posso Io posso Pensarla così Combo Effettivamente La penso così Anche perché Prima ho fatto Il discorso Di Se io ho l'opportunità E nessuno viene a saperlo Mi sembra strano Che io segua La mia etica Ovviamente Sto parlando Un po' buffo Perché la medicina È una cosa diversa È una cosa Molto più importante Soprattutto se andrai A fare Il medico Perciò Non saprei Però Quello che Stavo un po' Cricando io Erano tutte quelle Che gli è arrivato addosso Lo riscrivo Che se si è perso L'università Secondo me Questo ha fatto Semplicemente Alimentare il discorso Che se sei bravo Ti laurei In In corso Se non lo sei Ti laurei fuori corso Secondo me È un discorso inutile E lo dico Essendomi laureato In corso Ognuno ha il suo percorso E lo gestisce Come meglio crede Il tempo impiegato Per raggiungere un obiettivo Non ti qualifica In misura Maggiore E tantomeno Quantifica La bravura Ma infatti Non l'ha sbandierato lei Cioè era contenta Era contenta anche Di aver finito poco E in poco tempo E se In un mondo Di gente Che ha grandissima difficoltà A finire i corsi Io lo finissi prima Un po' Me la tirerei Spero che esca fuori Chiaramente Tutta la vicenda Questo è quello Che spero anch'io Sto parlando solamente Di quello che Già è uscito fuori Ciao Marcolino Il vero problema È che giornalisti Come Selvaggia Lucarelli Hanno il potere Di aizzare all'odio Quando lessi la notizia Io pensai Semplicemente A meno male Se lo sarà meritato Pensare sempre All'imbroglio È tipico Della nostra mentalità Infatti Infatti Ma io stesso Quando ho visto Sta cosa ho detto Ah guarda qua La classica storia Però Come reagisci Alle classiche storie La gente La voleva morta La vuole ancora morta C'è gente Anche della mia età Anche un po' più giovani Che diceva cose come Vabbè Questo nome me lo segno Così non mi faccio curare Da lei Va bene Grande Ha detto che Il sonno È tempo perso Non puoi dichiarare Una cosa del genere Dopo che hai studiato Medicina E dovresti sapere Che il sonno Invece è importantissimo Secondo me Questa è stata Una minchiata Nel senso che Quando Una storia Fa scalpore Tutto quello Che viene detto Che è stato detto Su quella storia là Viene messo sotto Un minchia di Microscopio E ha un valore Leggendario Come era successo Con la storia Di Chris Rock Che ha preso Uno schiaffo Da Will Smith Che ha fatto La battuta Peggiore del mondo Che non faceva ridere Una battuta Sulla calvizia In più femminile Di poco gusto Cosa che A nessuno Gli sarebbe Fattuto un cazzo Anzi Ci sarebbe Stato la guerra Perché non hanno Riso di più A quella battuta Se non è Fosse successo niente Quindi a mio parere Quindi a mio parere L'ha detto Un po' A cazzo L'ho anche letto Una cosa del genere Ovvero che Lei ha detto Che ha sempre avuto Poco bisogno Di dormire Ha parlato Di 6-8 ore Di sonno Anche a me è successo Nella vita Di dormire Soprattutto quando studiavo E andavo a scuola Di dormire Pochissimo Non mi interessava Tanto Riuscivo a fare Mille cose In un giorno solo No Lei se la sta Prendendo Lei se la sta Prendendo Col sonno Lei vuole far Guerra A Morfeo Il dio del sonno La gente Ingrandisce un po' Il cazzo che vuole Sta di fatto che A mio parere Insulti E robe così Si giustificano E legittimano Solamente quando Si viene a scoprire Che questa storia qua È effettivamente Fasulla Cosa che è stata Chiarita solamente Da gente Che entrava nei commenti E diceva È giusto No è sbagliato È la stessa gente La vuole morta Quindi non so Veramente Io non ho capito Perché la gente Se l'è presa Così tanto Con sta ragazza E soprattutto Perché è diventato Un caso nazionale Ci sono tantissimi Ragazzi prodigio Che si lavorano In pochissimo tempo Ma tutti se la sono Presa con lei Perché È bellissimo È il motivo È questo È bellissimo Distruggere Gli altri È bellissimo Crearsi la narrativa Del Villain E andare Contro questo Villain Soprattutto Se andare contro Questo villain È una nazione Intera Ha chiuso Instagram Ragazzi È veramente Quello che vogliamo Dalla gente Che forse Ha qualche colpa Non saprei Io dalla gente Che forse Ha qualche colpa Voglio delle scuse E che si E che si dimetta Da quello Che comunque Che gli si venga Tolto qualcosa Ma sempre Con la possibilità Di poterlo riprendere Se questo è il caso No Ma addirittura Darle della troia In continuazione Fino a che Chiude il Profilo social Complimenti Internet Questo è Questo è il Perfetto modo Per far sì Che non solo Lei la smetta Di sbandierare La sua felicità Ma anche che non accadono Più queste cose qui Oppure Oppure L'esatto modo Per farle continuare Per sempre Se ho l'opportunità Di rubare Lo faccio Se ho l'opportunità Di ammazzare Lo faccio Di imbrogliare Lo faccio Alla faccia Di tutti quelli Che stanno Nel piede di guerra Contro quelli Che sembrano felici Solamente perché lo sono Poi La narrazione Prende un po' La piega che vuole Repubblica È stato tipo Quel genitore Che dice Guarda Tua sorella Si è laureata In tempo Dovesti prendere Esempio E l'ha detto A tutta Italia Molta gente L'ha vista In una maniera Complementamente Distorta Purtroppo È così difficile Da capire Che ha avuto Spinte Per raccoracciare Tempi obbligatori Di studio O tirocinio Giova Non saprei Perché effettivamente Se vai da tutti i professori E dicono Di no Ti rimane solamente La tua ipotesi Anche perché Uno che imbroglia Che fa Dice No guarda Si L'ho favorita Io È una di quelle situazioni Dove A mio parere Sarà Cioè a meno che qualcuno Non si metta di impegno A indagare È proprio difficile Che esca la bugia Perché il bugiardo Per rimanere bugiardo Deve Proteggere la bugia Non andrà mai a dire Si sono stato io a favorirla Perciò Parlare di questo Questo effettivamente Non mi compete Perché non ho nessuna competenza Non so come funziona Ma ho visto Una valanga Contro questa persona qua Che se ne è andata A gambe levate Questa cosa qua È triste Indipendentemente Da Quello che hai detto Per quello che ha detto Ha studiato medicina Dovresti sapere Che il sonno è importante Allora allo stesso tempo Non dovresti essere obiettore Se studiando medicina Sai che L'embrione Non è una vita Eppure per molti Non è così Io non Io non Calcolerei proprio Questa cosa del sonno Perché secondo me L'ha detta Cazzo Io mi sento un figo Ogni volta che dico Ragazzi Ho montato questo video Leggendario Guardate qua che skill Non ho dormito un cazzo Perché mi sono sacrificato Per questa cosa qua Il sacrificio Solamente ogni tanto È di grande valore E onore Però questa volta no Perché il sonno serve Poi un medico Se non lo sa lei È un po' questo l'attacco Che gli hanno fatto L'unico problema è Ergerla a modello Da seguire Non l'ha fatto nessuno Edriub Non l'ha fatto Veramente Cioè Se volevano fare questo Hanno fallito totalmente Quindi secondo me Non c'è da preoccuparsi Perché non nessuno Ha ottenuto questo Oh Bizardone Sto facendo commenti A caso Ok È uno dei commenti Io studio in Sardegna Non due Non due Non tre Questa cosa qua Lei era smentita Dicendo che in casa È successo alle spalle Perché Erano tutti i suoi amici Quindi Dobbiamo fidarci Dell'ipotesi Che alle spalle Si sia fatta sta cosa Possiamo farlo Però boh Terzo Terzo E successivo Liceo classico In quattro anni Al posto Che in cinque Con il massimo De voti Laura 110 Lotto Con un anticio Brava nella corsa Brava col pianoforte Lavora in tv Influencer Viaggi spaziali Luoghi e posti di lusso I luoghi che hai visto Amico mio Sono facilissimi Da raggiungere Con pochissimi euro Quindi se non conosci Internet E con internet Intendo perfino Ryanair Che ci vanno pure I cani e porci Non saprei Io ci ho messo nove anni A fare una facoltà Di ingegneria magistrale Ed è stata non dura Di più Lei non ha detto Che è stato facile Ha detto che è stato molto duro Studiavo tutti i giorni Non uscivo né il sabbio Nella domenica E davo Non ci credo E davo ripetizione A ragazzi di architettura Per guadagnare qualcosa Non immagino quanto possa essere Dura medicina C'è qualcosa che non quadra Nel percorso degli studi Della ragazza Sarà pure intelligente O brava Ma non è fisicamente possibile Riuscire a fare tutto Ciò in pochi anni Soprattutto se sui social Sei quel che sei E fai quel che fai Non vuol dire Niente Sei nei social Sei quel che sei E fai quel che fai Amico mio Preparati a una vita Di ingiustizie Perché io cago In testa a mio fratello Ma lavoro con Disney Amazon E con le compagnie Più potenti del mondo E mi dispiace Preparati a una Grande delusione Se è questo Quello che pensi Che la vita Sia Ma non è così Sembra tutto costruito ad hoc Bene o male Basta che se ne parli Per aumentare la popolarità E se ne sta parlando Fin troppo a mio avviso Sta roba qua di internet Mi ha sempre fatto ridere Mi ha sempre 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 fatto ridere Se ne parli Gli stai dando importanza Eh ce l'ha Ce l'ha In più Su internet Se vuoi creare Il gruppo di quelli Che la ignorano Devi fare un grande Passaparola Privato Quindi non su internet Mandi un messaggio A centomila persone Dicendo Smettiamola No Lo fai pubblicamente Ergo non è È impossibile Non dare importanza A qualcosa che Secondo il tuo gusto personale Non dovrebbe averne Perciò è un po' È sempre stata quella Stupida Una delle più Grandi minchie di internet L'importante è ignorare Ok Fallo Eh Bene o male basta Ok La Lucarelli Critica la cosa Del se hai soldi Paghi e fai sessioni Di esami prima di tutti Ti laurei E ti diplomi Prima sei agevolato Non saprei Questa cosa va dentro Non lo so Ok Ma tu stai difendendo Senza sapere Un cazzo Però Eh Non hai risposto Ha nessuna critica Sui tempi Esami Eccetera È sicuramente Un livello di difesa La mia Ma è più un attacco Per chi l'attacca Perché proprio come me Non sa niente E non Penso sia anche impossibile Saperlo Penso sia difficile Riassunto Medicina a tempi obbligatori Giustamente per dare esami E tirocini Non puoi in nessun modo Accorciarli Perché sei bravo E talentuoso Ho sentito il contrario Da alcune persone Eppure lei Si è laureata in 5 Invece che 6 anni Quindi effettivamente Oggettivamente Accorciare i tempi Come ha avuto spinta Dall'alto Probabilmente dal Rettore stesso Dato che ha Andato su questa situazione Dopo email Di altri studenti E chiedevano spiegazioni Riguardanti con la storia Ergo Non merita Né laurea Né lodi Io so proprio il contrario Che dipende Dal corso E dalla situazione So che è situazionale Questa cosa qua Che i tempi obbligatori Non sono in tutti quanti Ti spiego semplicemente Marco è difficile dare più di 3-4 esami a sessione Perché sono materie Incredibilmente enormi Soprattutto in facoltà Come ingegneria E medicina Devi fisicamente Entrare nella stanza Dall'ospedale del tempo Per prendere buoni voti Per queste 3-4 materie A semestre Ragazzi Forse fallisco io Nello spiegarmi Ma Non Io di questa cosa Non la so Quindi al massimo Me la dite voi E dico ok è così Me la dice qualcun altro Contrario a come me la dite voi Ed è quello che sta succedendo Io ho sentito un'altra cosa Per me stai dicendo un'altra E posso dire ok è così Perché io non lo so Quello che so Ed è quello di cui sto parlando L'unica cosa di cui sto parlando È che l'hanno ammazzata Sta persona qua Non so Se In caso Di Imbroglio O bugia Sia la giusta risposta A ammazzarla Mediaticamente Non saprei Quindi era questo Mi viene da vomitare Solo a pensare Alla quantità di studio Io ho fatto l'influencer Marco immagina tutte le persone Che si lamentano Del tuo lavoro E dedizione A realizzare i propri sogni E i propri lavori Spaccandosi il culo Sacrificando la vita sociale Poi se ci sei Te che sei un punster Che gli basta fare una live di due ore Per stare bene anche un mese Non far ridere sta cosa Certo che fa ridere Blatt No assolutamente si Far ridere Ma Qual è il discorso Che ho sempre cercavo di fare A gente che Cioè io vivo Una vita particolare Ora Abbandoniamo sto discorso qua E andiamo a parlare del Privilegio e fortuna Di cui gli influencer Sono ovviamente Ricoperti E parlo un po' del mio Io passo moltissime serate Quando conosco Soprattutto nuove persone Dove arriva questa dinamica qua Sono là Cosa fai nella vita? Faccio questo Cosa fai tu nella vita? Io faccio l'influencer Ok La seconda cosa Che mi dicono Che mi chiedono Quando sanno Cosa che faccio è Quanto guadagni? Tutti Tutti Veramente pochissima gente Si è Frenata Dal chiedermi Quello che a quanto pare È la cosa più Accumunata al Lavoro Quindi non se ti piace o no Non se ti realizza Ma quanto ti fa Guadagnare E io dico Ci può stare Può essere che la realizzazione Personale di qualcuno Sia collegata Con quanto guadagni Puoi avere Io voglio tanti soldi Nella vita Perché non riesco a realizzarmi Se non con tanti soldi Mi servono come mezzo Per fare i miei video Sempre più fighi Quindi per me sono un mezzo Veramente principale Mi servono Può essere un mezzo Di realizzazione Però questo è quello Che è successo Sempre Mi hanno sempre chiesto Quanti soldi fai Questo Da Una strana Questo mi regala Una strana percezione Di quello che è il mondo Del lavoro Non Influencing E quindi non privilegiato Da Orari che posso decidermi io Da un quantitativo Di denaro Maggiore Rispetto a molti Lavori Ma neanche così tanto Se contiamo Che vuoi fare questa cosa Legalmente Quindi senza evadere le tasse E facendo tutto giusto In più C'è a dire che io Spendo tanto Vivo una vita Non tanto materialistica Non mi compro mai Quasi niente Se non Vestiti E videogiochi E cibo Non faccio spesate Non penso Mi comprerò mai Una macchina L'unica cosa Che comprerò Di potente Sarà una casa E le console Le altre cose Fortunatamente Me le regalano Mi arrivano Ma in generale Non me ne fotto un cazzo Però spendo tantissimo Per questo lavoro qua Perché per quanto sia Un privilegio Avere le proprie regole Vivo in un paese Che non ha nessun endorsement In America succede un po' diverso Cosa è l'endorsement? Ok Sto facendo un video Mi servono dei fondi Per fare questo video qua Solamente Se sto lavorando Per il cinema In Italia O per enti Molto importanti Io posso avere Degli endorsement Quindi dei budget Dei soldi non miei Che solamente mostrando Ho un logino Dando parte del mio copyright Della mia opera A delle aziende Ciao Siamo 8 miliardi nel mondo Ma sono ancora single Mi dai un bacino Per consolazione Ma Ristrai solo per sempre Non è neanche uno sponsor Noi investiamo Su questa persona qua L'unico favore Che deve farci È che noi possiamo dire Questa persona qua Ha lavorato per noi La Medusa Funziona molto così Io ho avuto Modo di parlare Con il regista Di Gigrobot E Freaks Out E lui ha dovuto Succhiare enormi Cazzi Per avere Tutto il malloppo Di soldoni Per fare quei film là L'influencer Che comunque Artisticamente È la stessa linea Facciamo la stessa cosa Solamente In mondi Molto molto diversi È molto più indipendente Non potrà mai Ricevere endorsement Forse solamente A livelli altissimi E secondo me Neanche Si parla solamente Di sponsor Gente come me Gli sponsor Devo usarli a volte Per auto Finanziarsi Il Merry Act L'ultimo che ho fatto Era low budget Rispetto a tutti gli altri E si nota Mi è costato circa 5000 euro E 5000 euro Sono quelli che mi arriveranno Grazie al video Perché lo sponsor Se lo metto in un video Mi fa 4k E mi ha monetizzato 1000k Molto spesso Con i video Ci vado a perdere Perché Spero e sogno In un mondo E in una carriera Dove Se faccio qualcosa Che funziona Mi arriveranno sempre più soldi Per fare sempre più cose Che mi funzionano E fortunatamente Dopo 12 anni È stato così Questa cosa qua Posso Dire che è difficile E che comunque Ha un peso di me Io me la vivo molto bene Ma è comunque Piena di privilegi Mi alzo quando voglio Comunque non Sento enorme sacrificio Soprattutto nel fare un video Che si auto mangia da solo Intendo a livello Si autoproduce da solo E quando Sento qualcuno Che Mi dice Eh però Questa cosa qua Se la confrontiamo A quello che invece È usuale Ovvero al sacrificio Alla gente che Perché Persino i colleghi Ti fanno domande così No Noi Influencer Sappiamo che siamo fortunati A posto Ci comportiamo Tutti fra di noi Quando si parla invece Di lavori usuali Quindi con orari Determinati Non da te Se ne parlava anche ieri Qualcuno Che ti dà tutte le guidelines Sicuramente Ha dei privilegi Che io non ho Ma anche Molti svantaggi Che io non Ho E Quando mi dicono Di fare questa specie Di gara Fra Chi ha la migliore vita Lavorativa Fra influencer E uno che fa Un lavoro normale Mi è sempre Suonato strano Perché ovviamente Nessuno dice Ok gareggiamo A chi ha la vita migliore Però Quello che è succeduto Nella mia testa Quando Parlo di quello che faccio A tantissima gente Che me lo chiede Cosa fai E poi mi chiedono subito Quanti soldi fai E che un po' la gente La vive così La vive a A te cosa è capitato Nella Quando hai sbustato Che lavoro ti è capitato Perché io faccio questa cosa qua E mi sono capitati Questi soldi qua Questo che vuol dire Che Stronzo ti adatti Se il mondo Va verso Un determinato Punto E diventa obsoleto Quello che stai facendo Secondo i tuoi canoni Perché se Secondo te Prendere mille euro al mese Diventa obsoleto Perché la vita costa di più Perché per te I soldi hanno più valore Allora tu Cambi Vi faccio un esempio Nel mio lavoro Quello che diventa obsoleto Sono le skill Ed è molto facile Che una skill diventi Obsoleta Quando La Prima metà Della mia carriera Non si parla di pochi anni Si parla di sei anni Di lavoro Dove non prendevo soldi Se non pochissimi Ma era comunque Un grande lavoro Quello che facevo Mi spaccavo il culo E montavo con Pinnacle Pinnacle Faccio così Perché aveva molti bug E mi ha rovinato la testa Sono un idiota adesso Per colpa di Pinnacle Se sta cosa qua viene Messa su internet Non potrò mai Capito? Non sono serio Come persona Non ascoltate Cioè ascoltatemi fino a un certo punto Sono fottutamente pazzo Sono un coglione Idiota Pazzo Vabbè Pinnacle Era un programma Di merda Quando sono entrato su internet Vedevo che molta gente Utilizzava Pinnacle Quando sono andato avanti Quando la cronologia Quando gli anni sono passati Ho notato che la gente Smetteva di usare Pinnacle E usava Altri programmi Non semi professionali Ma professionali Quindi programmi che effettivamente Servivano a montare video Senza bug Comunque Legalmente Soprattutto perché Pinnacle Io lo scaricavo illegalmente Non avevo soldini Ahimè E serve veramente Cambiare da questo punto di vista qua Sarei potuto rimanere con Pinnacle Certo Fra i miei video più famosi I miei video più famosi Sono stati montati con Pinnacle Un pezzo Pokémon E gli anime Erano tutti video montati con Pinnacle Io dopo sei anni Ho dovuto cambiare Fra virgolette mestiere Perché non potevo più usare quella cosa là Perché? Perché era diventato impellente per me Dover step upare E un attimo adattarmi a quello che stava diventando Il mondo del montaggio Che non si sta mai fermo Si muove sempre Questa cosa qua Nel mio lavoro Accade anche con Con le piattaforme social Io ho iniziato con Facebook Però poi è andato YouTube Era impellente andare su YouTube Poi è andato Twitch Era impellente andare su Twitch Poi Instagram Era impellente andare su Instagram Era impellente crearsi una pagina Queste robe qua Possono sembrare Non ne parla mai nessuno Ma sono enormi sforzi Che qualcuno deve fare E vi dico anche perché Quante volte avete sentito la frase Guarda me l'ha fatto mio nipote Perché io non sono bravo Con la tecnologia Soprattutto al bar No guarda io non so niente Questa cosa qui Non è che non sai niente Brutto stronzo E che non vuoi sapere niente Perché non c'è niente Veramente di più facile Di Della tecnologia Cioè mio padre Quando ero piccolo E mi portava al cantiere Mi Faceva vedere Robbe E lavori che faceva Enormemente più complessi E difficili anche da studiare Di quello che Voglio mangiare Just eat Pollo Paga E' questo C'è un grande sforzo Che la gente deve fare Per abbandonare Quella che è la comfort zone Sulla quale ha messo Il proprio culo Per tanti anni In tanti ambiti Magari come carriera Come Si fa vedere Nei social Le amicizie che ha Quello che mangia Come si veste Dove vive E per andare In un mondo In un universo Sconosciuto Ma che ipoteticamente Potrebbe migliorare Il proprio tenore di vita Questa cosa qua Sono degli sforzi Che L'influencer deve fare Non ne parla mai nessuno Perché l'influencer Si sente effettivamente Colpevole Di avere Privilegi Nella propria vita Però è una vita Ugualmente In alcuni ambiti Piena di sacrifici E delle cose È palloso Che io debba fare Questo discorso qua Perché Perché per me È normale Normale E se dovessi Spiegare questa cosa qua A gente Che non mi segue Quindi che non mi vuole bene A priori come voi Perché ci conoscevamo Tanto tempo A seguire le cose Avrei molta difficoltà Perché Perché non è A volte non basta Che qualcuno Spieghi chiaramente Perché Perché nella vita Esiste questo tremendo Fattore Che si chiama Fortuna A volte Puoi essere Molto fortunato Io sono stato Molto fortunato In tante cose Perciò Io posso spiegare Per filo e per segno Come mai In alcune cose Anche peggio Di un lavoro normale Noi non abbiamo La sanità Non c'è qualcuno Che ci protegge Daniele Se l'è beccata nel culo Non c'è ancora Si dice che c'è Ma è ancora Molto agli albori Un Sindacato Degli influencer Comunque Daniele Parte della sua vita È stata rovinata Rovinata Un lavoratore Al massimo Viene licenziato E deve rompersi il culo A cercarsi un altro lavoro Ma non esiste Che un lavoratore A meno che non faccia Qualcosa di Tremendamente Sbagliato Venga bannato Da quel lavoro là Non ha Può essere anche giusto Quello che gli è successo Lui Ma non ha avuto modo Di difendersi Non ha alternative Molta gente Ha molte alternative Soprattutto In ambiti Di lavoro Più usuali Vabbè Questo per dire Comunque esiste La fortuna E la sfortuna Puoi essere Puoi spiegare queste cose Con la massima chiarezza E con la massima razionalità E col massimo studio Anche Perché comunque Io non so Molte cose Di un vero lavoro Molti lavoratori Veri lavoratori Se vogliamo chiamarli così Non sanno molte cose Del mio lavoro Quindi Se non col Parlato Come Secondo me Neanche con quella volta Perché la gente sa Che a volte è solamente Una botta di culo Quindi Vuole solamente Vedere il mondo Bruciare Nel peggior modo possibile E Mi prendo la presunzione Di dire Che a mio parere Alla gente Non importa Se questa ragazza qua Abbia effettivamente Cittato Vuole solamente Vederla Morire Non è importante Saperlo Perché se fosse importante Saperlo La gente si ficcherebbe La lingua nel culo E aspetterebbe Prima di darle Della puttana Prima di darle Di una che è imbroglia Prima di darle Che una persona felice Solamente Perché ha il denaro Deve essere terribile Sentirsi dire queste cose Sia che tu abbia Effettivamente imbrogliato Sia che tu Non abbia Imbrogliato Ed è brutto Perché comunque Se vogliamo proprio Fare i filosofoni Anche nei cattivi C'è una speranza Che vengono scoperti In modo di riformarsi Un attimo Questo non è un modo Per riformare una persona Indipendentemente Dalla sua colpa O innocenza È solamente un modo Per distruggere il mondo E lo capisco bene Perché Quando ci confrontiamo A persone Che sono state Molto più fortunate Di noi E sono nate Più belle di noi Sono nate più Agevolete di noi A volte vogliamo Che inciampino Per Perché il mondo Gli faccia Sapere un attimo Che la vita Può andare Anche in quel modo Ed è un Atteggiamento Mentale Che io Accetto Cioè ce l'abbiamo tutti Quella cosa là Dell'invidia La gelosia Però dovrebbe funzionare Anche al contrario Che se Anche se questa persona qua Avesse imbrogliato È una regola È una regola Che io già conosco Nella vita Si può imbrogliare Accade il male La giustifico Assolutamente no Ma se è mio compito Dire Ehi O dire Brava Dovrei minimo Avere le prove Che è stata brava O che è stata colpevole La gente non ce l'ha avuta Questo è uno dei motivi Per cui Molte volte Adesso parlando di me Mi Butto contro il contrario Di quello che sta succedendo Perché spesso La gente L'abbiamo anche storicamente Visto molte molte volte Prende La grandissima pala al balzo Della massa Per distruggere O elogiare qualcuno E non c'è più bisogno Di chiedersi Se quel qualcuno Merita elogi O Distruzione Mediatica Solamente perché Già lo stanno facendo tanti Quella cosa là Quindi io non vengo interrogato Se io scelgo di insultare Questa ragazza qua Se io domani scrivessi Su Instagram Sei una buttana Rossella Romagnoli Come minchia ti chiami Per chi ha citato Otterrei Pochissimi insulti Mi arriverebbero anche Dei follower Perché la gente Non mi interroga Sul Che ne sai La gente Già lo sa Perché la gente L'ha insultata Lei è insultabile Solamente perché Molta gente L'ha insultata Non perché effettivamente Ha fatto qualcosa di sbagliato Perché io non lo so La gente lo sa La gente si riferisce a quello Che il cugino medico Gli ha detto Però non so se il cugino medico Sa tutto della medicina Oh Io ripeto Posso fidarmi di quello che mi dite voi Di quello che poi mi dice una persona Però sono sempre cose contrastanti Non saprei In più Ripetiamo Siamo in un paese A mio parere In un mondo Che se La bugia è una bugia Deve morire bugia Sono bugiardo E di una bugia E vivo per creare questo male A mio vantaggio Io non devo dire Non posso dire Guardate che ho imbrogliato Cioè a meno che non mi viene un'epifania Da domani Gesù Cristo Gandhi Marma Gandhi Devo Morirà con me la bugia Mi sa proprio Come morirà con tutta la gente Che imbroglia Perciò Cosa ci resta da fare Molte volte Starsi zitti E farsi i cazzi propri E puoi non farlo Puoi non farlo Puoi buttarti nella massa E dire Buttana fai schifo O puoi buttarti Buttarti nella non massa E dire Ragazzi un attimo Ma Ammettiamo Che non è per scoprire la verità Non è per migliorare il mondo Ma è un po' per arrovellarci Nella fiamma della noia Che è bella forte Bravo Marco Prendi fiato Ce l'ho fatta Non tutti la pensano come te C'è chi dice la verità Dopo essersi resi conto Di aver fatto una cazzata Dovresti provare Nuka cola Ma l'ho appena detto Ma perché mi vai contro L'ho appena detto Che è possibile Che ti venga un'epifania Ma certo Anzi tornare sui propri passi È molto Nobile Ma leggiamo Elissia Le notizie delle persone Che a 10 anni Non si prendono la laurea Incentivano questa gara Della vita migliore Di cui stai parlando Se non sei al passo Sei un fallito O quasi Soprattutto in un mondo Come quello universitario Che spesso è lasciato a se stesso Insulti nello specifico A lei Poi sono ovviamente Ingiustificati Ma allo stesso tempo Negare che un vantaggio Come il denaro In una società capitalista Non porti avvantaggi A chi cerchi di nasconderlo Crea una retorica fasulla Non l'ho mai detto No 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 Ma certo Ma certo Non solo dico che è possibile Ma che nella giusta occasione Tutti coglierebbero L'opportunità L'occasione Tutti coglierebbero La palla al balzo Io stesso Dipende come prendi la notizia Puoi farti ispirare Puoi farti buttare giù Poi è super fattibile Finire in 110 Anche a medicina Ingegneria Non è niente Di incredibile Nina Anche se non privilegiata Eccoti il mio prime Abbonati a me Si è già privilegiati Nina Non so se sai Ti mando un grande bacione Grazie Molto gentile Ehm E' un po' una cazzata Questa cosa qua Poi dipende come la prendi Se ti arrivano un milione Di commenti Che ti vogliono morta La prendi male Non è difficile Che tu possa avere Un Guarda che ti dico Oggi apro Instagram E se mi vogliono morta Dipende da come la prendo Magari mi prendo una cioccolata calda La prendo bene La prendi male E' terribile Quello che hai ora E' quello che ti meriti Ragazzi Non voglio sputare Sul piatto del mio merito Mi sento un figo In alcune cose Ehm Ciao Marco Attacco al Campidogno Grazie mille Wingy Ma certo Ma non pensate che io Dia tutto Questo discorso Ho fatto un milione di volte Non penso di essere stato Solo fortunato Certo che mi sono impegnato Ma Molto del mio impegno Era L'unica cosa Che potevo fare Perché una delle cose Che più odiavo Della mia carriera E' che Non me l'ha insegnata qualcuno Mi sarebbe piaciuto E' una cosa che la gente Mi accredita A mo' di merito Tipo bravo Te la sei vista tu Complimenti Contro la vita No Io voglio la manina Sempre Voglio la manina Non voglio restare da solo Paura Non voglio Buttarmi In un pozzo Solamente perché Dietro sta esplodendo E questa è un po' E questa è un po' Una metafora Di quello che vivevo Zero amici Non potevo parlare Con nessuno in Sicilia Di quello che mi piaceva Quando ho scelto di fare video Ragazze Fidanzatine Intendo Amici E famiglia Mi sono andati contro Non potevo che fare questo E fortunatamente Ha funzionato Perché Non avevo Nessuna skill Quando Sono diventato Ultra famoso Non avevo Nessuna skill Avevo montato Per un sacco di tempo Ma non avevo Letteralmente Nessuna skill Accreditata Da nessun corso Cioè non ho fatto Nessun corso Completamente Autodidatta Perciò Evviva Forte Marco Figo Ce l'ho fatta Sono contento di questo Ma c'è stata anche Molta fortuna C'è stata anche Molta fortuna In questo mondo La fortuna e la sfortuna Esistono E ci sono modi Ovviamente Per ricercarli un po' di più A Milano puoi avere Molta più fortuna Che giù Però esiste Buona serata caro Quello che rivendico A Poi del studio Grazie del messaggio Non è Il fatto che non abbia fatto scuole Ok E' il fatto che io non Abbia avuto la possibilità di farlo Di comunicare con nessuno Quelle che sono le mie passioni E di Tutto questo Veramente poco Sono queste cose qua Io non potevo farlo Non mi è stato mai accreditato Non mi è stata mai data Quella spintarella Cioè Ovviamente Adesso lo dico Con grande Allegria pure Cioè Meno male Però Non Avessi un figlio E mi comunicasse Mi piace questa cosa qua Non riuscirei Ad andargli contro Solamente Perché non è Nelle mie corde Quella cosa là E E non riuscirei Da L'esterno A dire Bravo Anche se tuo papà Non ha voluto Ce l'hai fatta Può essere un merito Ma a me non Importa A me non fa niente Ricevere ringraziamenti O Meriti Su qualcosa Che io Volevo A me serviva E la volevo Volevo Marco che bel video Da mia madre Volevo Ah sai che puoi andare là Da quelli che conoscevo Volevo Ah ma sai che cosa Volevo molto più amore Volevo affetto Spesso Nella semplicità Che ci si Che ci si perde Non c'è niente di complesso In quello che volevo Ehm Dico questo Ed è proprio per quello Che hai incranato Tutto l'online E l'hai comunicato Con così tanta forza Non era forza Poi Era disperazione Stavo male La rabbia Che mi veniva Accumunata Il personaggione Non era un personaggio Era vero Io stavo male Ehm Questo è uno dei motivi Per cui mi vivo Con molta maledizione Quello che ho adesso Perché mi sento Che devo fare Adesso È proprio adesso Il momento in cui Devo dimostrare qualcosa Perché quello che ho dovuto Dimostrare prima Non era dimostrazione Era rivendicazione Era vendetta Era Non era niente di bello Se ne va un po' Fare in culo l'arte Quando il sacrificio Per farla È il mio benessere Io do la mia carriera In cambio A un po' Di tranquillità mentale E non dover sempre Pensare A questo terribile Mostro Che mi mangia dentro Del Meriti niente Non meriti niente Contrastato da uno Che dice No guarda Sei il più figo di tutti Meriti tutto È palese Che Per tanto tempo Non ho avuto una bussola E sai che ti dico Amica mia Molta gente non ce l'ha E questo è uno dei peggiori Svantaggi Di chi fa il mio mestiere Che internet Non ti dà queste bussole Non ti dà aiuto E dovrebbe Perché la gente muore La gente sta male Io L'unica cosa che ringrazio È come al solito La fortuna Di aver avuto Questa insensibilità Nei confronti Di chi Non Mi aiutava Queste cose qua Io sono stato forte Ma quello Non ci ho lavorato Io sono nato forte Ho avuto un'indole Forte Quando ho scoperto Che mi piacevano Quelle cose Non c'era niente Che mi potesse Far pensare il contrario Molta gente Non nasce così Molta gente È sfortunata E vive in famiglie Che magari Non bastonano Come quelle che facevano io Ma ammazzano direttamente Che si drogano Che sono Malconce Che hanno un tenore Di vita Scarsissimo Questa gente qua Può abbandonare Così i propri sogni E questa è una Il fatto che questa cosa qua Accada per via della fortuna E la sfortuna Del dover nascere In quella famiglia In quel posto là È vomitevole Ed è per questo Che non riesco A darmi questo applauso Me ne do tanti altri A me piace come monto Mi piace Mi piace a livello creativo Mi piace che Solamente una passeggiata Al lago Possa farmi venire Un'idea Tre video diversi E mi piace stupire La gente che mi chiede Ma come ti vengono idee Dicendo guarda È normalissimo per me Ho una certa stima di me Ma in questo Non riesco ad averla Perché non è merito mio Ho avuto culo